Per ogni uomo ci sono sette donne, capace da un gruppo di sette. Per ogni uomo ci sono un gruppo di sette donne, capace da un gruppo di sette donne, capace da un gruppo di sette donne, capace da un gruppo di sette donne. Per ogni uomo ci sono un gruppo di sette donne, capace da un gruppo di sette donne, capace da un gruppo di sette donne, capace da un gruppo di sette donne. E' un gruppo di sette donne, capace da 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 un tenendo la lingua di Virsing e la lingua, e vanno a dire che la lingua di Virsing si mette fino a bella mi dà per sbottare la camiseta e basso a basso a basso a basso a Sarita e a Tobias un Virsing, un sapore di acciaio che veniva ma non ci sta bella, se ho capato a basso a basso a lincia e lincia e vince a Sarasubigio ottenendo il Virsing in cui pure un sapore di acciaio oggi c'è e poi mi sono posto a forrocare con la corsa a basso, e non fino a dove fira il Virsing magari il Virsing ma che fira travesti, ottenendo giù che c'è di cosa, c'è ci si parlava con male ma bella oh Gigi ma fai un'altra cosa ti sai se ti accorgo su un'altra cosa eeeh ma prendiamo un marrazzo, capo si sbaglia c'è dappi la nostra attellata eh, fatto bene comunque Gigi, dammi se dovrò rifare subito eh potremmi se ha fatto un'avventura con eh ma questo non ti sorresti questo ma stai andando? e poi che che sorresti meglio una festa ha 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 dei cugini devono ha rispetto a Nemus o Gigi lui c'è che mi sa fatto pure ma questa no? l'acqua del connale questo è? eh, sa e che connale? questa connale è bella che andè impalmata ha ricordato lì e poi devono ha rispetto a Nemus o Gigi devono certe cose se non mi importa nuda, d'uscisi che mi sa fatto avventura con lui ma guarda che c'è questa sroga eh? non esatto è sasso è sasso che sroga? ah tu fai con questa sroga è ancora bruttoca ha ricordato? ha ricordato? oh Gigi non ha rispetto a Nemus a Nemus lascia a Verdi dai che non mi importa dai che mi sono fatto pure oh ma questa è zietta eh no non ha rispetto a Nemus lo dice l'uscisi anzi io posso un'altra cosa sicuramente da questi grazi devo andare a Roma c'è sorri mia ma non ci faccio la strada del romano devo andare a Bonaria? eh sorri tu eh ma è Mera tua parola? tu hai parola? vuoi ci dici altro ma è Banzo da me sorri tua? eh sai che cosa ti faccio? eh ah su che cosa che fai non c'è problema ma mi hai due volte il suo pacchettino oh pacchettino da Banzo aereo che è pittivo andai bene che è cosa a mano non ti ho due volte eh no è cosa a me fa mi soffrire eh e te che se commetti che sono tu a fiarla in macchina con me e se andare scadescio questa verica è mutanda che si è sposti non rannati che se si è sapusciare qua eh e questo si è fatti in maniera di sorri mio che buona disgraziato ti sei posto con sorri mio eh te te bontasi da saluto disgraziato delinquente e ragazzi amico non c'è ma vai disgraziato e ma come mi dorsi a salurare e riporto una nuova cosa e portare il virus in chi vuole ma non fira il sapore vero smaltato come nella saluta vai tranquillo portare un bello virus in lì ma vai linda l'amore disgraziato questa verica è mutanda si sta spostando sempre in bucciacca quando arriva al corso poi c'è il bucci basta dimorare il sasorri poi quando uno dimorare il sasorri poi c'è subito una crisi poi s'orri esatto o no ma vuoi sasorri e quindi faccio sempre e poi c'è il bucciacca quando l'arriva bene si sta spostando sempre a disposizione grazie grazie Gigi grazie a Paolo e noi ho scelto a ricordare io ho compreso il libro e naturalmente noi io ho scontenso di sviluppare del greco su manco ha già venduto 200 milioni dei libri e dunque ci sono anche un po' che è un po' che è un po' comunque ci sono che ho avuto un bel successo a parte di Brullo sul libro e se ho comune queste tre comune che sono presentate in tutta l'isola oggi ed è questo naturalmente che ci sono contenti su me una cosa che mi piace da contare è una cosa che Gigi ha già ricordato si presenta sul libro che ha fatto il arbo che ho scontato prima si presenta questa commedia gli arbo e sul titolo della commedia si dice a vettendo a vettendo e si ha fatto un manifesto pubblicità di suo bando d'otto canto si vede in questo bello luogo arriva a suo merito e arriva fino a arrivare la gente a truma a camparata si vedeva e si vedeva a vettendo a vettendo e a vettendo a vettendo si è fatto mi rimane si vedeva la commedia non si è fatto e sono vedeva a vettendo perché non si è fatto proprio e anche ancora c'è la gente non risaluta gli arbo scusate presentiamo un altro piccolo scenettina molto diversa non è stata sporca vero? del subisibili televisione non come se sannaio eh però perché ormai no no voi ci siamo su no ma poi non è quest'altra voce questa scena c'è e qui l'abbiamo fatto un po' l'abbiamo pulita un po' perché era un po' un po' diversa ma comunque andava bene questa scena che presenta è guarda si conoscevano? eh? certo che ci conosciamo da uno tappo mai più ah no? ma te ne sei mi segno io ti conosco da quando sei nato carissimo io sono il tuo angelo custode io sono sempre stato vicino a te sempre come è il tuo angelo custode? io sono arcangelo gabriele Tatti il tuo angelo custode non puoi sempre intendere questa storia però se il tuo angelo custode è una cosa che non si bere com'è ti mai tu ripesi? non ti credo eh? mi piu vota santo Pedro ma dono il suo permesso di mi fare bì po' un mese tu sei uno fortunato che po' un mese posso bì s'angelo tu quindi quindi tu mi seguiste sempre? sempre in bidra puro? sempre ma mi seguiste in bidra puro? Deus è sempre stato accanto a tu sempre però ma tu avvicinisti troppo però eh?